A tutto salutare questa città e questa regione, questa è la città degli atleti. Noi oggi volevamo essere qui per Crotone e per la Calabria, per quello che Crotone rappresenta nella storia delle Olimpiadi, nella storia degli atleti e nella storia dello sport. E spero per quello che rappresenterà tra poche settimane anche per il mondo del calcio. E quindi mi fa piacere, mi faccio in bocca al lupo.